Pino, hai guardato Il Grande Fratello? È uscita serena. Ma è uscita serena o è incazzata? Secondo me è uscita incazzata proprio. Ma che cazzo guardate ragazzi? Ma fatemi una pera di intelligenza, fatemi una pera di umiltà, di dignità cazzo. Io spero solo nella vita di non avere mai il dispiacere di avere un figlio che guarda quei programmi. Io non c'ho possibilità. Io se avessi un figlio che guarda un programma così lo prenderei a schiaffi sei volte al giorno. E qui non è una questione di prepotenza, è una questione di giustizia morale proprio.